L'inno alla gioia di Beethoven, interpretato dal coro Università d'Annunzio Incanto, fresco vincitore della Felucadoro, ha aperto la giornata del passaggio di consegne tra Sergio Caputi e il nuovo rettore dell'Ateneo, Liborio Stupia, che resterà in carica fino al 2029. La scelta non è stata un caso, visto che si lega perfettamente a quella che sarà la prossima frontiera dell'Ateneo, come annuncia il neorettore. La prossima frontiera è l'internazionalizzazione perché la ricerca, perché la didattica non possono avere confini ristretti, perché dobbiamo guardare ad altri paesi, dobbiamo guardare ad altre realtà sociali e anche perché i finanziamenti importanti vengono dall'Europa, quindi la prossima frontiera sarà quella. Lei ha anche detto, professore, vogliamo essere un'unica comunità che insiste su due città. Esattamente, esattamente. Ci sono Atenei in Italia dove i diversi padiglioni distano più di 13 chilometri, che è la distanza tra il Viale Pindaro e il Campus di Chieti. Dobbiamo finirle con i campanilismi. Siamo un'università che ha il privilegio di insistere su due città, due città importanti, due città, una con più storia, l'altra con una realtà più attuale, una vocazione più culturale, l'altra vocazione più imprenditoriale, ma sono due città che l'università deve riavvicinare e non separare. La sede di Viale Pindaro a Pescara quando e se verrà spostata? La sede di Viale Pindaro, ovviamente ci uniremo insieme ai direttori di quei dipartimenti, si deciderà se a spandere Viale Pindaro o altre soluzioni, ma sicuramente, come ho detto prima, Viale Pindaro dovrà avere una dignità pari al Campus di Vede Vestini e dovrà diventare un luogo in cui con orgoglio studenti o docenti si recano a lavorare, ma lo decideremo insieme perché il mio metodo sarà la concertazione. Nonostante le difficoltà legate al Covid, Caputi, che tornerà ad insegnare, lascia un Ateneo in buona salute. Un'università, devo dire, rispetto a quello che ho trovato, con 700 concorsi fatti in più per i docenti, con 150 concorsi in più fatti per il personale tecnico-amministrativo, una buona situazione economica, ma soprattutto, ribadisco, con un clima molto più sereno di quello che c'era sei anni fa. Un consiglio si sente di darlo al professor Astupia? Beh, sì, un consiglio assolutamente, avere tanta pazienza. Per fare questo lavoro ci vuole una pazienza infinita. Questo è il consiglio più grande che mi sento di darlo. Si diceva del coro dell'Ateneo diretto dal maestro Cristian Statinieri, nemmeno un mese fa, il 13 maggio, la soddisfazione di aver riportato in Abruzzo la Feluca d'Oro al concorso dei cori universitari di Urbino. Così ricorda Elisabetta Di Mauro, che lo presiede. Ci siamo andati in punta di piedi perché noi ci siamo appena costituiti e quindi vincere, averci dato questo respiro è stato molto importante per noi, per continuare, insomma, nei nostri progetti. Devo dire che anche oggi è stato emozionante ricevere in casa un altro riconoscimento perché è molto bello essere apprezzati per quello che stiamo facendo con gli studenti, il personale tecnico e amministrativo e dei docenti dell'università che partecipano a questo coro. Sono ancora pronte altre iscrizioni, ci sono alcuni che si sono avvicinati da quando è stato ricostituito, ci contattano e vorrebbero far parte. Come devono fare materialmente? C'è una mail ufficiale a cui contattarci e poi le prove del coro sono il martedì e il giovedì nell'auditorium dalle 20 alle 22. Chiusura con colui che ha organizzato la cerimonia, il direttore generale dell'Ataneo Giovanni Cucullo, forse il più emozionato di tutti. Sì, perché comunque in questo sessegno abbiamo condiviso, abbiamo partecipato a momenti difficili, momenti belli, momenti emozionanti e quindi un po' un insieme, un cocktail di eventi belli, particolari da dover difendere, però nel segno soprattutto dell'amicizia, perché non c'è professionalità se alla base non c'è un rapporto fiduciario e umano e questo è quello che porto con me in questi sei anni. Questi altri sei, affidati al professor Stupia, gli sarò vicino per quello che posso e penso che sia pieno di idee importanti per il potenziamento della nostra università. Noi giochiamo su un unico campo che si chiama Università Gabriele D'Annunzio e questo messaggio di oggi è proprio un passaggio che non è un passaggio traumatico, è un passaggio che è una continuazione nel rispetto proprio di una stima e di un'amicizia che lega comunque i nostri rettori e le nostre idee.